Sì, sabato farò l'esordio in top 10, sono emozionatissima, felicissima e onorata di questa designazione, di aver avuto la fiducia dei designatori. È un onore perché è una prima volta per una donna e ovviamente spero non sia l'ultima. Il mio augurio è che dopo di me vengano tante altre ragazze, che si arrivi a un momento in cui non sarà una novità e non se ne parlerà, non se ne scriverà, saremo 50 e 50. Io credo che in Italia il movimento stia crescendo tantissimo a livello di qualità, di quantità, giocatrici, la nazionale femminile ha ottimi risultati da anni, si sa. Parlo anche del mio piccolo, anche a livello arbitrale stiamo avendo diversi risultati, siamo in tante a livello internazionale, stiamo crescendo e stiamo lavorando tanto. Allora, se penso alle partite più impattanti per me, per la mia carriera, è stato sicuramente l'esordio delle sei nazioni, qualche anno fa. È stato incredibile lavorare col TMO, lavorare con una terna straniera, lavorare con una struttura veramente organizzata, quindi quello è indelebile, una pietra indelebile della mia carriera. Se devo scegliere un'altra partita tra le tante che non scorderò mai, probabilmente l'ultima finale scudetto femminile di un paio di anni fa, perché è stato proprio divertente a 360 gradi arbitrare. C'era un rapporto fantastico con tutte le giocatrici in campo, con gli staff, ormai è un po' di anni che calcavo i campi, quindi ci si conosceva ed è stato un piacere, un divertimento per me stare in campo per 80 minuti, anche prima e anche dopo la partita. Quello penso sia veramente il momento più felice che ricordo. Allora, un messaggio per chi si sta avvicinando al rugby adesso è non demordete se non capite all'inizio cosa succede in campo, se non capite le regole, se trovate strano che si passi il pallone dietro per andare avanti, perseverate, perché è uno sport divertentissimo, quindi continuate e vedrete che sarà uno spettacolo sempre crescente. Grazie a tutti.